Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, è il 10 giugno del 2017 e questo è il primo dei tre video che sto realizzando per documentare il corso Digital Storytelling per l'insegnamento dedicato alle scuole del primo ciclo per quest'anno scolastico, 2016-2017 un corso che era orientato all'utilizzo del web e delle tecnologie digitali e nella didattica con particolar riferimento alla tematica dello storytelling, della narrazione digitale in questo video introduttivo volevo focalizzare una questione secondo me decisiva e cioè meglio in presenza o meglio online? ovvero per rispondere al problema della formazione degli insegnanti, della formazione continua e professionale degli insegnanti in servizio è meglio puntare sulla formula del corso in presenza oppure offre maggiori opportunità, maggiore efficacia un corso online o quantomeno in modalità blended learning? si tratta di una questione che io ritengo decisiva e di importanza strategica è la mia opinione, in proposito che sia molto meglio la formula dell'online learning o blended learning naturalmente non qualsiasi corso online è per il fatto di essere online meglio del corso in presenza soltanto a determinate condizioni perciò io propongo il format di questo corso che ho tenuto sullo storytelling bene, la prima ragione per cui è meglio, secondo la mia opinione, il corso online e lo riassunta con l'espressione un tuffo nel web così come non si può imparare a nuotare leggendo le istruzioni su un manuale ma occorre tuffarsi in acqua e provare e riprovare allo stesso modo ha più senso se si vuole apprendere l'utilizzo del web e di tutti gli strumenti che il web comprende, quindi le varie applicazioni, i vari servizi per la gestione dell'apprendimento eccetera dicevo, se si vuole apprendere l'utilizzo del web è molto meglio farlo utilizzando il web la seconda ragione è che l'apprendimento è efficace solo se è un apprendimento situato e contestuale cioè riferito a un contesto specifico a maggior ragione per quanto riguarda le tecnologie digitali e il web l'apprendimento di queste è necessità di ancorare le attività alla concreta situazione che i docenti e i studenti vivono nella didattica quotidiana cosa voglio dire? utilizzando una metafora cinematografica quella della presa diretta cioè la registrazione simultanea dell'audio e dell'immagine possiamo dire che le competenze digitali si possono sviluppare in modo efficace coincidentemente con l'attività che i docenti e i studenti svolgono nel processo formativo di tutti i giorni quindi non di un corso deve trattarsi ma di una serie di attività di un'esperienza formativa di una serie di attività che si intrecciano e diventano parte integrante della didattica quotidiana quindi occorre precisare che troppo spesso i corsi in presenza ma anche i corsi online rimangono all'interno del paradigma della didattica trasmissiva questo vale sia in quei corsi online sia in quei corsi in presenza in cui si tratta di acquisire dei contenuti che vengono magari presentati in una piattaforma o da un docente qualora siamo in presenza si tratti della presenza o una piattaforma come Moodle dei pdf da studiare dei test finali da sviluppare bisogna invece adottare un paradigma di tipo laboratoriale ma non la finta laboratorialità una laboratorialità effettiva che non sia cioè una strata esercitazione accademica mi spiego il metodo pseudolaboratoriale che spesso si trova quasi sempre si trova nei corsi in presenza è che noi riuniamo insieme in un'aula 25 per esempio docenti proponiamo una determinata applicazione web spieghiamo come funziona insegniamo l'uso di questa applicazione web e facciamo produrre a quei docenti determinati contenuti servizi disciplinari o interdisciplinari con quell'applicazione ecco in che cosa consiste il carattere finto di questa attività che si tratta di un apprendimento del tutto inautentico è assolutamente astratto perché avulso da quella che è la reale situazione in cui quei docenti con i loro studenti si trovano a vivere il processo formativo giorno per giorno quindi cosa occorre fare? quello che io ho chiamato l'apprendistato didattico digitale che cosa fa l'apprendista? lavora in una bottega in questa situazione si trova ad essere l'insegnante l'insegnante deve partire da quella che è la situazione concreta in cui quel momento si trova con il suo programma con i suoi studenti, con la sua classe eccetera individuare all'interno di quella situazione le esigenze didattiche proprie dei suoi studenti a quel punto scegliere quelle applicazioni, quegli strumenti quei servizi più opportuni per dare una risposta a quelle esigenze e realizzare o dei contenuti da utilizzare immediatamente da spendere cioè immediatamente nell'attività didattica o addirittura impostare dei progetti da sviluppare parallelamente in modo integrato al corso in modo da verificare immediatamente la ricaduta dell'utilizzo del web e delle tecnologie digitali nel processo di insegnamento-apprendimento questo darebbe luogo a un apprendimento effettivo cioè il docente imparerebbe realmente a utilizzare nel percorso formativo e nella didattica queste tecnologie perché lo farebbe durante il corso quindi il corso altro non sarebbe che una guida e un supporto che intervengono all'interno dell'attività didattica e la modificano attraverso l'utilizzo di determinate tecnologie funzionali all'attività didattica sarebbe un apprendimento anche significativo perché il focus sarebbe posto sull'allievo in questo caso sul docente in situazione e agirebbe anche sulla sua motivazione ad apprendere spesso i corsi in presenza ma anche alcuni corsi online trasmissivi, erogativi sono assolutamente non gratificanti e sono addirittura demotivanti o addirittura producono il rigetto delle tecnologie digitali delle nuove cosiddette nuove tecnologie proprio perché si risolvono in una sarabanda di applicazioni che vengono date in pasto ai corsisti, ai colleghi in raffica una dietro l'altra e producono spesamento producono confusione producono un senso di inadeguatezza ma soprattutto producono la domanda a che serve tutto questo? come posso utilizzare tutto questo nella didattica? ebbene la soluzione è che il corso non deve essere in realtà un corso ma deve essere un corso in presa diretta come dicevo prima cioè deve agire direttamente su quello che è il livello che interessa l'ambito che interessa all'insegnante la sua didattica concretamente e in questo senso sarebbe anche innovativo perché appunto non si tratterebbe di teoria che poi dobbiamo in un secondo momento applicare alla didattica ma si muoverebbe dalla didattica stessa di tutti i giorni che gli insegnanti e i loro studenti portano avanti il terzo ed ultimo motivo per cui penso che questo format di corso online o blended sia molto meglio di un corso in presenza riguarda quelle che sono le condizioni reali in cui il corso in presenza e il corso utilizziamo questa parola online un po' impropria online si tengono cioè lo spazio e il tempo le condizioni reali da cui spesso dipende il successo dell'apprendimento e che vengono in genere tralasciate e trascurate mentre sono quelle in un certo senso più importanti le condizioni operative nelle quali ci si viene a trovare prendiamo la situazione del corso in presenza tipico 25 persone dentro un'aula dopo aver lavorato tutto il giorno che si incontrano alle 15-15.30 che per 4 ore fino alle 19-19.30 stanno a lavorare con un docente e qualche volta quando va bene un tutor con l'impossibilità reale di essere seguiti in modo efficace in una totale confusione con la fatica che si accumula e con l'impossibilità di seguire ciascuno il proprio passo ciascuno il proprio ritmo con il docente che deve continuamente interrompersi perché a chi si blocca il computer a chi non mi prende la password e poi c'è chi non riesco ad aprire quel sito e poi c'è chi non mi carica il file si tratta quindi di una situazione decisamente inefficace e sfavorevole all'apprendimento mentre il corso online è un corso in cui abbiamo il vantaggio del mobile learning e quindi every time and everywhere ciascuno può seguire al proprio passo il percorso proposto o costruire insieme agli altri il percorso interagendo online con essi quindi imparando a usare il web che poi userà qui sui alunni da ogni luogo in ogni momento con i propri strumenti e quindi con strumenti che conosce e essere assistito anche qui in ogni momento naturalmente questo richiede che il corso online risponda a certi requisiti e qui gli accorgimenti possono essere vari io in questo corso per esempio ho puntato molto sui video messaggi in due mesi ho prodotto 12 o 13 video messaggi mirati e personalizzati più una dozzina di tutorial feedback continui un contatto quotidiano con i corsisti tramite Edmodo e altri sistemi di messaggistica e un ambiente di apprendimento che poi illustrerò quindi il format è da proporre assolutamente quello del corso online che risponda ai tre requisiti che ho cercato brevemente di illustrare che esemplificherò meglio nella presentazione della documentazione finale del corso vi ringrazio e buona giornata a tutti i nostri a tutti i nostri Grazie a tutti.